Bentornati nella mia libreria, oggi sono qui perché vorrei presentarvi un libro che a me è piaciuto tanto 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 L'autrice di questo libro io in realtà l'avevo già letta in altre edizioni della stessa casa editrice però non l'avevo mai approfondita Ora sono felice di averla conosciuta anche personalmente sui social, è una persona divina, stupenda e il libro in questione di oggi è La strega e i robbi vecchi di Fiorella Borin e edizioni Tabula Fati che è la casa editrice con cui ho avviato anche una collaborazione che mi è piaciuta tantissimo e che vi riporterò qui sul canale La strega e i robbi vecchi è un romanzo brevissimo, è un racconto breve la stessa Fiorella mi ha detto che di questo romanzo c'è un secondo volume che io non conoscevo e l'ho messo subito in wishlist perché questo mi è piaciuto da morire la tematica ci piace perché è l'inquisizione la storia originale c'è una sottospecie di fiaba, c'è morale ed è proprio come piace a noi infatti sono sicura che molti di voi devono avere questo libro costa 5 euro quindi è un libro accessibile a tutti ma non è un libricino da 5 euro così giusto per è veramente una storia fatta benissimo Di cosa parla? Parla di un paesino anzi un piccolo villaggio in questo piccolo villaggio c'è Bigiarino che è un ragazzo che si diletta a rivendere cianfrusaglie in giro e lo chiamano il Robi Vecchi Cosa succede? All'inizio della storia troviamo questo Bigiarino che cerca di fare in barba un signore un signore anche non uno qualunque un signore acculturato di questo villaggio Codesto Signore in realtà è il notaio del villaggio che purtroppo nell'inquisizione ha il compito di mandare a morte le persone e questo notaio si sente con le mani legate perché purtroppo ha dovuto mandare a morte una ragazza bellissima del paese la bella Isotta rinomata per tutta Triora Isotta purtroppo è una ragazza sfortunata perché è nata bella ma povera e come ci insegna spesso la storia essere belle ed essere povere non coincidono bene perché la bellezza attira le invidie e la povertà purtroppo non ripaga mai e infatti questa ragazza viene presa di mira dai tre più balordi della città che cercano di portarsela a letto, di sedurla ovviamente la ragazza non cede e se ne dicono di tutti i colori di questa ragazza che sia una strega, che li abbia sedotti che abbia portato la povertà a casa di uno di loro tante tante cose brutte si dicono di questa ragazza tanto che alla fine tutti si convincono che questa ragazza sia una strega viene messa a gioco bruciata viva però la realtà è che Bigiarino era innamorato perso di questa ragazza e quando viene a sapere questa cosa è dilaniato dal dolore non riesce più né a parlare né a mangiare niente tanto che anche qui il notaio gli ha fatto uno scherzetto perché siccome Bigiarino lo prende sempre per il naso questa volta lo stava ripagando di una moneta molto amare e cattiva perché nello stufato che stava mangiando all'osteria dove si trovava con Bigiarino e dove Bigiarino cercava di rubargli il pasto il giorno prima sapeva che nello stufato c'erano dei topi c'erano capitati dei topi l'oste è molto molto sozzone non li aveva ripuliti anzi non se ne fregava nulla anche perché era pure un po' alticcio e aveva notato che era lo stesso stufato e l'aveva fatto mangiare a Bigiarino che però di colpo si ferma a mangiare per disappunto del notaio e niente, è scioccato e non parla più però Bigiarino fa l'incontro con uno strano cavaliere che gli dona tre oggetti tre oggetti che lui decide due di questi di metterli in vendita nel suo carrettino e uno che è un gatto di tenerselo con sé però qui qualcosa succede è bellissimo credetemi questo va letto va letto veramente tanto anzi mi dispiace che ho sentito veramente poca pubblicità a questo libro mi dispiace che non è molto conosciuto e mi dispiace vedere che questi testi vengono persi così perché davvero questo merita io amo tantissimo questo amo tantissimo i testi curati da David Ferrante che sono tipo la media streghe pandafiche mazza murilli 1 e 2 tra cui al secondo volume ci ha scritto un racconto la mia carissima amica di libri in carte d'ossa cioè sono tanti testi che hanno un fondo di tradizione nostra personale perché ad esempio Simona ha scritto una storia ispirata a una storia vera ma anche altre persone so che hanno scritto storie ispirate a cose che sentivano da bambine dalle bisnonne come è successo anche a me la mia nonna e la mia bisnonna mi raccontavano cose su streghe su malefici e il fatto che tabula fatti ce li riporta ma non vengono così pubblicizzati mi fa stare male spero che io vi dia un monito per scoprire qualcosa in più e vi dia un monito per leggere queste cose bellissime perché meritano davvero di essere lette io vi aspetto con un nuovo testo sempre qui però prima vorrei ricordarvi di seguirmi lasciare un commento mettere un mi piace e aiutarmi a crescere così alimentate anche un po' il mio sogno noi ci vediamo per il prossimo libro qui e io vi auguro una splendida giornata ciao ragazzi ciao